Lo scopo della seconda esercitazione è quello di fare alcuni esperimenti con l'integratore di research. Intanto io vi presento questo caso generale. Il sim file che avete si riferisce ad un suolo con un unico strato per il momento. Comunque il problema finora sarà quello di eseguire quello con un unico strato. L'esercitazione che invece assegniamo a voi è quella di eseguire un'infiltrazione in un terreno con più strati. E dopo, la settimana prossima, vi insegneremo come inserire più strati. Le equazioni di research le conoscete benissimo, sono queste. La prima è l'equazione vera e propria. La seconda rappresenta... qualcuno ha un caricatore di quelli vecchi del MEC, ok? E la seconda rappresenta la conoscibilità idraulica, la terza è la parametrizazione di Vangelo. e la terza è... e la terza è... Allora, che cosa serve per risolvere l'equazione di research? Beh, vi serve un modello matematico. Questo modello matematico, in pratica, contiene il solutore dell'equazione di research e anche contiene una definizione delle curve di ritenzione idrica, quindi per esempio la parametrizazione di Vangelutte e la parametrizazione della conoscibilità idraulica. Il solver, a sua volta, che cosa contiene? Contiene un metodo numerico che risolve l'equazione. C'è una discretizzazione dell'equazione su una griglia, in particolare in questo caso è una griglia regolare, ma potrebbe essere anche una griglia regolare. questo fa sì che la prima cosa che voi dovete fare è quella di... sarà quella... prima ancora di eseguire... beh, il calcolo che io ho eseguito perché tutte queste operazioni sono già state fatte, in particolare l'implementatore... l'inventore del metodo numerico che noi usiamo è Vincenzo Casulli, il professore qui del nostro dipartimento, l'implementatore che ci ha messo del suo naturalmente è Nicolò Cubini, e poi abbiamo quindi il programma, il contenuto nel file già che vi ho visto prima, dobbiamo fare comunque tutta una serie di operazioni preliminari per preparare la simulazione. in particolare la prima parte della definizione della griglia, per esempio qui è rappresentato un suolo, questo suolo ha tre strati, come vedete in qualche modo identificati, seppure in una forma non così precisa come il modello richiede, uno più scuro sulla superficie che ha un contenuto evidentemente organico molto più alto, un contenuto centrale che è rossiccio, forse contiene degli ossidi di ferro, è una parte più bassa che è anche rocciosa probabilmente di più chiara. In questo caso dobbiamo definire una griglia, la griglia ha due elementi da definire rispetto al dato che voi vedete rappresentato, cioè il dato che voi vedete rappresentato è che esistono tre orizzonti, quindi noi dobbiamo definire sia gli orizzonti sia la griglia numerica, la griglia numerica può essere molto più piccola, in particolare qui, poi vedrete quando andremo a vedere un parametro che setta il numero di elementi, Niccolò ha scelto una griglia fittissima, cioè nello spazio di due metri ha preso una griglia con duemila punti, quindi la risposta viene data diciamo punto per punto. È fisico quello che si ottene su questa griglia così piccola? In realtà non è fisico perché le equazioni valgono alla scala di Darcy, quindi avrebbe una scala che grosso modo ha dalle stesse dimensioni degli orizzonti che voi vedete. Quindi diciamo la griglia numerica è molto più fitta della scala di Darcy. La griglia numerica qui è segnata con dei punti, in particolare in questi punti segnano i centroidi della griglia numerica. In questi punti dove viene calcolata la variabile della nostra equazione, se voi vi ricordate bene, le variabili dell'equazione di Richard sono, se vogliamo, due, il contenuto d'acqua e la pressione. Qui la pressione non è segnata come soluzione, peraltro nel modello, cioè non è segnata come soluzione, cioè sempre positiva, ma è segnata come pressione negativa. Quindi dopo dovremo interpretare i risultati che vediamo. Il sistema però non calcola solo i valori della funzione nei punti che vedete segnati in blu, ma calcola anche i flussi che ci sono tra i volumi separati dall'uno all'altro. Quindi in realtà in mezzo, qui non ho il pointer, idealmente intorno a ciascuno di questi punti ci sono dei separatori che sono i punti in cui vengono calcolati i flussi. I flussi vengono calcolati al limite alle superfici di separazione tra due volumi successivi. Quindi il primo problema che noi abbiamo è quello di generare la mesh o la griglia. Mesh, grid sono nomi che riportano, che hanno a che fare con la griglia. Poi la griglia avrà certi risultati che vengono inseriti nel simulatore 1D e poi avremo tutto il problema della produzione dei dati che vengono poi visualizzati. per questa colonna di suolo sono individuati gli strati omogenei che sono tre, poi tutte queste informazioni devono determinare i parametri per ogni strato che voi vedete. L'altra cosa, e ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto quella lezione come si risolve un'equazione alle derivate parziali, quando noi vogliamo risolvere questa soluzione prima di risolverla dobbiamo anche settare le condizioni iniziali del nostro sistema in particolare com'è la soluzione sul nostro sistema e quali sono i flussi con le condizioni delle variabili al contorno cioè in questo caso essendo un problema unidimensionale sulla superficie del suolo e sul fondo. questo simulatore ha due particolarità rispetto ad altri simulatori delle equazioni di Richards che quando si satura le equazioni di Richards si trasforma immediatamente nelle equazioni per le acque sotterranee quindi può gestire anche l'infiltrazione nel saturo. inoltre può gestire anche il fatto che sulla superficie si venga a formare uno strato superficiale di acqua che poi eventualmente si produce, si determina in Aranofa io vi ho mostrato un caso di questo tipo nelle lezioni di teoria oppure si rinfiltra più tardi ma comunque questo va a costituire un carico sopra la superficie che si devono tenere conto queste informazioni inizialmente sono contenute in un file csv che dopo andiamo a vedere come si è fatto però vengono tradotti in un altro tipo di file per esempio la condizione iniziale e qui Niccolò ha giocato un po' con questa slide la condizione iniziale per esempio dice il contenuto d'acqua che abbiamo sulle ascisse varia nei tre strati com'è possibile che il contenuto varia nei tre strati? beh evidentemente perché per ciascuno dei tre strati è data una curva di ritenzione idrica diversa quella che invece è in equilibrio nei tre strati è la suzione in questo caso vedete beh la suzione è 0 sul fondo in questa situazione quindi significa che è assunta che ci sia una falda sul fondo e poi decresce linearmente con la superficie idrostaticamente questa colonna è di un metro parto dal zero in fondo a un metro sopra lo zero che è solo a meno uno di suzione perché il carico è idrostatico e misurato in metri come si arriva a questa soluzione? intanto bisogna assumere una delle tre categorie di curve di ritenzione idrica che sono ammese noi ne abbiamo viste esplicitamente solo una nella curva di banche nutte quindi magari voi usate solo banche nutte ma poi siccome vi ho detto il bello di questo laboratorio è che voi dovete anche esplorare delle altre cose chi più esplora più guadagna tu potresti anche sederti se vuoi mi metti soggezione così obbedisco il Bruxell Gorey è un'altra un'altra sì parometriazione delle curve leggermente diverse da banche nutte e cosugi era una terza una terza rappresentazione che non mi ricordo più in questo momento se ve ne ho parlato ma mi parlo di sì che correla direttamente la struttura dei pori del vostro sistema alle punte di ritenzione idrica in ciascuno dei tre casi e comunque la preparazione della griglia per le simulazioni è in un notebook diverso se andate a vedere dove ci sono i notebook dovrete trovare questi file il... ci sono alcune variabili da definire no? cioè il... beh questo è il notebook che va a generare file dopo lo vediamo questo notebook vi aiuta a definire alcune variabili che sono poi usate all'interno delle simulazioni beh la prima variabile è il path dove si trova l'input in questo caso voi potete immaginare visto che vi ho parlato dove si trovano i dati di input diciamo standard in OMS si trovano nei rectori data quindi i... questi anche si trovano nei rectori data in particolare però c'è una sottodirectori che si chiama data richardspastgeneration.it abbiamo bisogno di un file iniziale in cui ci sono... in questo caso ci sono delle misure di dati in particolare in questo caso c'è un... ci sono dei dati di misure che vanno a stabilire... che stabiliscono... ponding sarebbe... pond è uno stagno o una pozzanghera vanno a stabilire qual è il tirante che si viene a creare in superficie sono i dati quindi che danno le condizioni al controllo di superficie l'output poi c'è l'output file name e il nome del file che dobbiamo generare come risultato potete osservare che ha un'estensione posturata nc è sempre un file che voi potete leggere ma se lo leggete vi risulterà molto... comunque è molto complicato è un file che si chiama netcdf che ha anche un formato diciamo compresso e che contiene... che permette una rappresentazione dei dati completamente spiegata cioè all'inizio vi ho detto beh i file di dati per esempio quello delle precipitazioni che io vi avrò proposto io ho detto questo file di dati non è autoesplicativo perché se io lo apro poi per esempio non so quali sono le unità di misura che cosa realmente è rappresentato nel file e così via questo formato netcdf invece contiene tutte le informazioni che consentono di capire come è fatto il file poi c'è un output title che è il titolo delle colonne dei dati che vengono posti in uscita in particolare qui sono messi dentro anche alcuni parametri che magari andiamo a verificare poi nel file del notebook alcuni certamente li riconoscete per esempio θs che cos'è? θs sarà la porosità del sistema poi c'è scritto clay che significa che stiamo portando di un'argilla θr è il contenuto di acqua a residuo K può essere la conducibilità idraulica a saturazione poi ci sono l'alpha specific storage e il beta specific storage che sono legate alla comprimibilità del mezzo e dell'acqua naturalmente il mezzo è generalmente molto più comprimibile dell'acqua in questo caso è messa a zero la comprimibilità è una condizione questa non fisica che determina alcuni problemi per esempio la propagazione di onde di pressione a velocità infinita dentro il mezzo però il metodo di calcolo che noi usiamo se ne fa un passo di questa cosa e integra ugualmente le equazioni anche se questo vuol dire che quando si raggiunge la saturazione tutta l'acqua si muove con un moto a pistone praticamente e non come se fosse un corpo rigido e vabbè poi ci sono i vari valori dei contenuti dei parametri di vangherette un'altra scelta che dovete fare è quella legata alle condizioni iniziali vi dice qui sono possibili tre attraverso questo notebook potete calcolare in realtà sono possibili tutte le condizioni iniziali che voi volete ma diciamo che ce ne sono tre di preparate a priori una è la condizione idrostatica una è la condizione costante in cui viene dato il contenuto di acqua nella distribuzione idrostatica l'andamento della pressione è lineare con la quota e il carico idraulico complessivo è zero la condizione costante ipotizza come condizione iniziale per esempio un contenuto di acqua costante beh, il contenuto di acqua costante per esempio su un layer può essere anche su più layer differenti in questo caso un contenuto d'acqua costante non assume un carico idraulico costante quindi anche se noi non facciamo piovere il sistema si rilascia si rilassa, non si rilascia e si dispone su una configurazione poi di equilibrio poi c'è anche una condizione che si chiama linear interpolation e dice ma se voi avete delle misure per esempio di teta o di psi potete usare questi teta e questi psi per costruire la vostra condizione iniziale l'e-cita in questo caso è idrostatico c'è un file che viene prodotto poi nell'e-book csv se ne andiamo a leggere contiene questi dati in questo caso adesso ad uno ad uno vado a spiegare cosa sono queste variabili però per la forma di dati tabellari alcuni dei dati che stanno sulle colonne li ho già spiegati altri non li ho ancora spiegati tipo type, eta, n non li ho ancora spiegati in particolare l identifica che ci sono dei layer cioè non layer numerici ma layer fisici cioè quello che avete visto prima erano tre layer in questo caso ci sono tre layer uno, due, tre il primo e l'ultimo sono sempre dei layer ci sono anche degli strati intermedi che in questo caso sono chiamati M che non sono dei layer ma sono dei punti di misura io all'interno di un layer posso aver messo uno strumento di misura per fare la misura per esempio di disruzione in questo caso lo identifiche e segnare con un layer aggiuntivo che chiamano di tipo M eta che cos'è? eta è la coordinata misurata verso l'alto in particolare l'origine qui è fissata sulla superficie e beh 10-2-3-4 in questo caso vedete l'avventura rappresentata nella sezione di suolo e i vari strati sono i livelli dei vari strati quindi il primo layer è a 0 l'ultimo layer in questo caso sarebbe a 1 non corrisponde alle cose che vedete in alto e avete uno strato intermedio che è tra meno 0,5 e meno 0,7 metri la coordinata punta verso l'alto n n è il numero di elementi sotto griglia che voi andate a specificare nico l'opini ha scegliato 120 per il primo strato 160 per il secondo 160 per il terzo e poi nell'ultimo layer in realtà non ci sono non ci sono e solo serve solo a segnare la posizione finale e quindi non ci sono ha messo meno 999 che sta per un not a number in questo caso quindi abbiamo 700 in un metro di terreno Niccolò per non farselo abbastanza per avere una curva ha disegnato 720 punti che è un'esagerazione se vogliamo quello che viene suggerito qui è che ovviamente in prossimità della superficie dove per esempio c'è interazione con le precipitazioni è ragionevole mettere più layer perché è lì che c'è la massima variazione del sia del prodotto d'acqua che della pressione e si possono generare delle curve che sono non sono mai realmente discontinue ma sono per esempio una variazione molto forte nel passare per esempio da un centimetro all'altro si va bene si contiene i valori della condizione iniziale ci sono dei punti in cui non è necessario mettere i valori si mette meno 999 quindi è usato come simbolo di note number per esempio si nella parte sopra è 0.1 nel punto di misura è meno 1.5 in questo caso e nel layer il fondo è 0 vuol dire che nella parte nel punto finale c'è la falda perché in questo caso si è questa è la definizione poi c'è una serie di colonne che hanno i parametri della curva della parametrizzazione che abbiamo scelto per esempio se abbiamo scelto vang e luctel c'è il valore di n e il valore di alfa se abbiamo la luxencorei la seconda colonna si chiama non n ma si chiama psi d se abbiamo cosugi abbiamo r e sigma dove r e sigma sono la dimensione la media della dimensione dei pori e sigma la varianza della dimensione dei pori quello di Romano è un po' più complicato perché è simile al modello di cosugi in realtà ma assume che ci siano due che il suolo abbia una struttura e quindi ci siano due sistemi di porosità uno dovuto diciamo alla tessitura e l'altro dovuto alla struttura quindi una curva bimodale che ha bisogno di due sigma e di due variabili medie quindi a seconda del modello voi avete vari elementi teta s e teta con r sono la porosità teta con s il contenuto d'acqua a saturazione se volete teta con r è costruito il residuo k può essere la conducibilità idraulica l'alpha specific storage se voi andate a riguardarvi le equazioni che riguardano questa roba qua è la comprimibilità dell'acqua molto piccola potremmo anche metterla a zero per semplificare la comprimibilità dell'acqua perché il termine che è più grande invece è cioè no beta è l'alpha che è il termine più grande c'è anche un altro termine che è chiamato eticome evapotraspirazione perché in linea di principio noi possiamo pensare che ci sia un qualcosa che estrae il contenuto d'acqua da ciascun layer e in questo caso potrebbe essere l'evaporazione del suolo e qui è messo tutto a zero ma perché in questo caso non è accoppiato ad un modello di evaporazione ma semplicemente viene assegnato un file o degli elementi in cui in prima approssimazione viene calcolata l'evaporazione nella cartella che vedete Richard Mass Generation ci sono 4 csv file che corrispondono a 4 tipi di suolo e così via sulla a 4 tipi di suolo eh cioè voi vi trovate nella situazione in cui voi avete il voto supponiamo di partire da zero questa è una simulazione in cui io vi do i risultati ma voi andate in campo e voi avete facciano dei profili e stabilite che per esempio in quel profilo ci sono uno o più uno o più orizzonti cioè uno o più orizzonti significa tradotto in questi termini tipi di suolo diverso curve di ritenzione unica diverse e così via eh tipi di suolo diverso noi abbiamo visto che ci si esistono delle parametrizzazioni statistiche di questi tipi di suolo diverso per cui per esempio che ne so i parametri di Bang & Uptem per un'argilla hanno certi valori noi vi forniamo delle tabelle per fare veramente le cose bene non dovrebbe fare delle misure in campo oppure costruire delle tabelle sia pure statistiche sul campione che si vuole andare a misurare sul punto reale che si vuole andare a misurare questi dati che però voi raccoglieteli scrivete in un file csv perché quello sapete fare a mano no? se io devo scrivere a mano scrivo in corsivo scrivere in corsivo questo in questo caso è equivalente a produrre un file csv come se vedete il value però il programma si mangia dei file in un altro formato che si chiamano netcdf quindi poi il notebook produce dei file netcdf che sono quelli che vanno in pasto al nostro museo ok ok vi ho già parlato delle condizioni delle condizioni iniziali che sono tre che sono tre queste che sono segnate profilo costante pari ai valori della suzione ma suzione costante vuol dire contenuto d'acqua costante anche nella suzione vuol dire contenuto d'acqua costante se il suolo è omogeneo è lo stesso tipo contenuti d'acqua sono diversi se i suoli sono diversi oppure l'interpolazione lineare eccetera il notebook che noi andiamo a costruire e che poi andiamo proviamo ad eseguire questo su questo per questi voi dovreste avere tutte le eh tutte le conoscenze per poterlo fare quindi quello che io poi vi chiedo di aprire voi il notebook utilizzando queste istruzioni provare ad eseguirle tutte quante e intanto verificare e poi verificare che il vostro notebook produca le cose che ci siamo detti oppure anche fare delle piccole variazioni delle piccole personalizzazioni del vostro sistema eh è possibile scrivere delle cose nel vostro notebook voi non lasciate quelle che sono scritte di default voi utilizzate questa possibilità di personalizzare i commenti che sono scritti cioè spiegando veramente quello che c'è dentro ma adesso quando fino a che andiamo a rieseguire i notebook che sono stati preparati è un conto ma quando poi voi andrete a fare le vostre simulazioni non è che queste parti le dovete lasciare inalterate le parti queste parti le informazioni devono andare a descrivere quello che è la vostra simulazione la mia simulazione ha 8.000 strati di uno su uno c'è la sabbia su uno c'è l'argilla su un altro c'è un po' di limo poi c'è di nuovo la sabbia queste informazioni vi conviene scriverle in maniera estensiva perché dopo rimangono nel contenuto del file netcdf che viene prodotto è che voi potete andare a rileggere fra sei mesi quello che è recuperando tutte le informazioni sono sicuro che se voi andate a recuperarle fra sei mesi la prima cosa almeno quelli che hanno fatto recuperare l'esame subito quello che succederà non ti ricorderete assolutamente nulla di quello che avete fatto però pian piano recuperate le informazioni questo lo dico per esperienza personale nel senso che quello che succede a me quando faccio delle cose poi sei mesi dopo non mi ricordo esattamente quello che ho fatto e questo mi consente però di recuperare quello che ho fatto di non perdere il minimo tempo possibile poi c'è il sim file cioè prima c'è la preparazione della griglia dei dati della scelta delle varie condizioni poi c'è il sim file nel sim file abbiamo visto com'è com'è prodotto com'è fatto Apple ID un po' poi vi caricherò anche anzi il video c'è già ma non è ancora linkato e ci sono delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che vi avevo gustato io in particolare la definizione dell'inizio della data di esecuzione questo è un integratore che va avanti nel tempo io parto dalle condizioni iniziali devo mettere una data di default la data è in questo formato cioè anno, mese, giorno ore, minuti e voi potete chiamare e mettete la data di inizio e la data di fine e poi dovete definire anche il time step espresso i minuti quindi 60x24 sono in realtà quanti minuti vogliamo fare la simulazione per un giorno qui dentro quali sono le componenti una cosa che avevamo visto era che non è immediatamente visibile qual è il nome interno delle componenti che sono dentro il jar file ci sarebbe un comando per sapere quali sono i nomi delle componenti dentro il jar file in questo momento io non me lo ricordo ma sicuramente il problem solver vi saprà dire quando glielo chiedete quando glielo chiedete come si fa c'è un comando java che vi permette di sapere avendo sapendo dove si trovano i jar file voi sapete che i jar file si trovano in lib per permettere java meno una opzione per sapere quali sono questi comandi qui il vantaggio è che qui viene spiegato in particolare c'è una cosa che si chiama monodimensional problem time dependent come vedete questa questa notazione è quella per indicare le variabili in java primo nome minuscolo poi i nomi intermedi maiuscoli nome intensivo perché comunque cerca di spiegare che cosa c'è dentro il primo file si chiama red netcdf richard scritto che è il nome esplicativo mi serve se vuoi darvi i comandi appunto dal nome già capite che cosa red netcdf certo dovete sapere cos'è il netcdf ma red sapete che cosa che cos'è legge i netcdf e viene usato per in particolare per quei netcdf che hanno a fare come ci assumono qui questa è una buona pratica di programmazione cioè scrivere i nomi in modo molto estensivo dopo di che ci rompe un po' le scatole usare tutto questo nome qua ogni volta che dobbiamo fare i nostri domani sotto per cui vi assegniamo un nickname un soprannome più corto che si chiama red che ancora è esplicativo però non così esplicativo il solver si chiama invece richards richards 1d solver e dopo c'è un lettore che legge che cosa legge inside dove sono contenute le condizioni al contorno sul strato superiore red reader data top bc e gli altri top bottom bc che sta per boundary conditions e questo attiva un lettore che è present che si chiama OMS time series internet reader come vedete qua la il nome è molto più lungo perchè in particolare il nome qui è nel namespace di un oggetto che si chiama jamesgrashfus non dovrebbe più chiamarsi così perchè adesso la nuova versione si chiama otto machine comunque adesso quelli nuovi sono otto machines .gears .file 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 ma dentro il vostro file ci sono ancora i jamesgrashfus poi che cosa succede? questo è un dettaglio un po' più complicato noi abbiamo detto che il nostro sistema è fatto a componenti quindi c'è una componente che risolve il sistema e poi butta fuori i risultati questi risultati non vengono immediatamente stampati ma vengono presi da un'altra componente che poi si occupa di stamparli e di scriverli e per fare questo questa componente li mette dentro un buffer ovvero uno spazio dove li alloca temporaneamente e poi li riempie questo ha un grande vantaggio perché mentre c'è la parte di calcolo che va per conto suo la parte di stampa è separata dalla parte di calcolo all'interno dell'object di queste componenti object modeling system cosa succede? siccome queste due componenti sono separate su un su 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 un core del vostro computer si esegue il calcolo su un altro core si incarica della stampa c'era un mio amico che si dennava per dei mesi per costruire dei codici molto veloci nel calcolo dopo di che stampava a schermo tutti i dati che che otteneva questa operazione fatta in maniera sequenziale occupava più della metà del tempo del calcolo quindi fare questa separazione è interessante dal punto di vista numerico perché utilizza le le architetture multicore dei nostri computer moderni e le due operazioni vengono separate e poi i dati finali vengono letti di nuovo in un NECDF che parametri ci sono? beh in input la simulazione prende in input un NECDF in particolare un NECDF della griglia questo è questo dato che ho illustrato qui è sun sopra clay sotto e no ponding è una condizione particolare scelta in modo tale che non si crei sulla superficie una pozzanghera un altro parametro ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato in vari modi e qui c'è una una differenza vedete ci sono quattro modelli delle curve di detenzione indica ve l'ho già detto due o tre volte oggi in particolare qui viene questa che si chiama romano ma impariamo anche da questa che il nome non va in maiuscolo ma va in tutto il minimo scolo condizioni al contorno le condizioni al contorno sono di due tipi noi possiamo specificare il valore al contorno della variabile che sto misurando in questo caso potrebbe essere l'assunzione posso dire l'assunzione in cima è sempre zero o sotto è sempre zero questa condizione si chiama condizione di D3 e in realtà invece vi posso dare una condizione di flusso la condizione di flusso si chiama condizione di Neumann qui questo comando sta per dire che sopra noi gli diamo una condizione di Neumann sul bottom invece gli diamo una condizione di D3 un'altra cosa è noi diamo abbiamo i valori delle variabili di stato li calcoliamo sui punti della griglia i flussi invece li calcoliamo sulle interfacce che separano i nostri volumi abbiamo tanti volumi sovrapposti come tante scatole sovrapposte nel centro della scatola calcoliamo il valore il flusso lo calcoliamo nell'interfaccia che separa una scatola dall'altra come calcolo i valori delle variabili di stato sull'interfaccia se per esempio ce l'ho in due punti differenti così dovrò calcolare l'interfaccia che sta in mezzo beh una cosa ci possono essere varie situazioni che hanno delle conseguenze sul calcolo uno di prendere i due valori e di fare la media uno di prendere il minimo dei due valori un altro di prendere il massimo dei due valori queste sono tutte variabili che voi potete potete cambiare nelle vostre simulazioni e che anzi io vi invito a fare qualche esperimento di cambiamento come vi ho detto il vostro volto dipenderà da come e quali esperimenti voi fate su questa cosa qua certamente se voi riproducete quello che facciamo noi che vediamo e l'esercizio che vediamo fatto in maniera piana prendete comunque un bel voto ma il massimo lo prendete se fate alcuni di questi esperimenti per esempio giocando con le variabili giocando con una di queste mortefici combinazioni che sono possibili con i parametri di prima si modifico il flusso perché l'equazione del flusso che cos'è? è per esempio il flusso il flusso del tipo darsi è la conducibilità idraulica la conducibilità idraulica è calcolata se vogliamo è calcolata in funzione dei parametri di stato ma il parametro di stato se ho un punto sotto un punto sopra in mezzo all'interfaccia in quel valore in quel punto lì il flusso come lo calcolo? devo decidere qual è il valore della variabile di stato nel punto intermedio dell'interfaccia e questo lo posso posso avere diverse strategie queste sono diverse strategie un altro elemento è questo è più legato al solutore è la tolleranza con cui accetto io per esempio qui il mio sistema è un sistema che muove della massa dall'alto verso il basso dal basso se ci fossero condizioni anche dal basso verso l'alto il la massa deve conservarsi il sistema il solutore è un sistema che si chiama intrinsecamente conservativo cioè scritto in modo le equazioni che conserva la massa però io questo lo posso verificare per andare a verificare i residui del mio sistema di integrazione io voglio che i residui qui se il mio sistema funziona bene devono essere dell'ordine dell'errore dell'errore di arrotondamento che io ottengo sul mio processore l'errore di arrotondamento qui è dell'ordine di 10 è la meno 16 quindi come vedete lì è messo 10 è la meno 14 ma va bene l'algoritmo che è stato implementato si chiama l'algoritmo di nested newton sono due algoritmi di newton innestati uno dentro che ha tutta la sua struttura per chi fosse interessato possiamo dargli anche delle informazioni ulteriori ci sono anche dei corsi della laurea magistrale che consentono di imparare poi come sono fatti questi metodi cos'è che è il corso di modellistica numerica in realtà ci sono due metodi uno questo è nested newton che fa un po' di più di interazioni l'altro è il metodo di newton in alcuni casi il metodo di newton converge il metodo di nested newton in particolare applicato a 10 a 1 d è dimostrato esattamente che converge sempre cosa vuol dire sono metodi iterativi per cui prima faccio una prima guess di quali sono le mie variabili dopo rimetto dentro il calcolo e lo rieseguo varie volte fino a che la tolleranza dell'errore è quella che vedete in alto e nested newton so che converge sempre l'altro metodo non sempre converge però avrebbe il vantaggio di essere più veloce e quindi ci sono il time step poi devo specificare e il time delta questo è il time delta è il numero di il delta di che è usato nello schema numerico non necessariamente lo schema numerico ha bisogno di ebbè uno schema particolare che comunque posso usare comunque uno schema un time step ma diciamo è separato il time step dell'integratore interno dal time step con cui io produco i risultati cioè internamente posso calcolare per esempio il mio flusso ogni decimo di secondo ogni secondo esternamente io posso volere il mio flusso ogni minuto calcolare ogni decimo di secondo in alcune situazioni può essere importante per calcolare per vedere per esempio delle cose tipo di shock di cose di questo tipo però io alla fine la voglio come minuto perché se faccio delle simulazioni non so 100.000 anni per esempio supponiamo che io voglia simulare un'intestazione di 10 anni 10 anni secondo per secondo sono una bella quantità di dati in particolare qui il massimo di dati che abbiamo provato abbiamo fatto delle simulazioni di 8 anni secondo per secondo quindi una quantità di dati molto grande però la quantità noi la rappresentiamo solo non ogni secondo se noi la vogliamo vedere la rappresentiamo per esempio andiamo a vedere i risultati che ne sono ogni giorno come cambia questa roba che già su 8 anni sono comunque tanti dati e quindi i due i due time step sono separati ok le condizioni a contorno sono condizioni che io devo sapere a priori cioè se il mio sistema è aperto io sono in grado di far girare la mia simulazione intanto che io ho delle condizioni a contorno per esempio per calcolare un problema di climatrazione io devo avere la precipitazione quindi avrò dei file che contengono la precipitazione fin tanto che ho la precipitazione posso calcolare non è vero posso calcolare anche dopo assumendo che la precipitazione si allunga dopo però certo io i sistemi aperti hanno bisogno dei file di input che contengono dei dati di input al barriere del tempo questi stanno in questi file qua con altre indicazioni che stanno a fare quando parte la condizione al contorno quando finisce la condizione al contorno con un campo di identificazione che qual è l'elemento che è considerato no value quando mancano dei dati lo stesso per le posizioni al contorno poi alla fine ci sono sempre dei parametri che devo dare anche in scrittura i numeri dei file di output e dopo di che si può dare un file di descrizione che viene stampato all'interno dell'SDF che è utile per capire che simulazione ha fatto perché ho detto in una fase di grande attività voi magari fate 50 simulazioni in un giorno il giorno dopo non sapete più che cos'è allora per ogni simulazione se voi avete scritto questa è la simulazione che poi vi aiuterà la data magari altri elementi questa è la simulazione che ho fatto in queste condizioni in parte le potete ridurre dei valori dei parametri ma se ve lo provate ha scritto questo vi evita molto quindi la breve descrizione non deve essere come ha fatto Niccolò ma uno spazio vuoto questa è la descrizione qui ho uno spazio vuoto mai lasciare questo spazio vuoto se volete riutilizzare una simulazione che avete fatto se voi state facendo una simulazione così che volete provare altra cosa potrete lasciare anche quello spazio vuoto ma se quella simulazione vi serve per produrre dei risultati che poi è meglio che ci scriviate qualcosa dentro poi come si connettono tutte le le varie i vari elementi anche qua quindi c'è questa la connessione dei dati di input con i dati di output delle componenti come vedete c'è una spizza che non si risolve neanche qua perché finisce ci mette due slides questa come esercizio su questa lista che poi vedete anche nel file di simulazione e cercate di capire che cosa è una che cosa è che cosa produce un input e che cosa produce un output per esempio la prima che cos'è? leggo la variabile zeta quindi la quota e la passo alla variabile zeta del risolutore la seconda leggo il delta della in pratica dei singoli elementi e la passo al delta del risolutore e così via non è così difficile sono noioso ci sono dei notebook per vedere come si fa sono fatte le simulazioni e quindi poi se li andiamo anche a guardare ok qui c'è una piccola estensione della 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 cosa in cui dice che viene detto che ci sono alcune situazioni particolari se voi vi tenete dentro se voi non lasciate sfuggire nessuna acqua dal fondo tutta l'acqua che voi mettete dentro l'accumulate conoscete l'acqua che c'era dentro nella condizione iniziale quindi in ogni istante siete in grado esattamente di sapere quanta acqua c'è dentro nel vostro sistema lo sapete a priori perché quella che vi avete messo dentro più quella che c'era inizialmente quindi potete fare un controllo di questo tipo qua in questo caso e potete verificare che tutto il sistema funzioni correttamente ci fermiamo e facciamo un po' di pausa